Buona giornata, ti auguro tanto divertimento e buona fortuna. Ricordati di essere sempre positivo. Contraria venere, passata oggi dell'opposizione, e un sole incerto, quello che oggi si mostra tra le nubi, capace solo di segnalare ciò che vorrebbe, appunto salute e un'occupazione stabile. Nel lavoro voi ci credete parecchio, non solo come sostentamento, ma anche e soprattutto come forma di dignità personale e consolazione dai guai. Se capita non badate al calendario, avete bisogno di raggranellare denaro, specie se state pianificando una convivenza o la nascita di un pupo. Se poi i figli ci sono già, già in età da università la pecunia non è mai troppa e bisogna galoppare, Madame Repubblica festeggerà, mentre voi vi rimboccate le maniche e sgobbate come sempre. Ma con amore. Indenni questa giornata, poiché risulterà particolarmente mediocre e monotone. Dovrete sforzarvi di tirare fuori tutta la vostra fantasia per ottenere almeno un minimo di risultato. Se fino ad oggi avete ricevute risposte negative da banche e finanziarie, da oggi, con Urano e Giove favorevole, potreste pensare di ritentare e soddisfare così il vostro bisogno di denaro liquido. Oggi vi sentirete come appesantiti dai tanti problemi che avete accumulato in questo periodo, cercate di risolvere al più presto almeno quelli che vi danno più noie. Dovreste imparare ad usare meglio il cellulare, e forse è anche giunto il momento di comprarne uno nuovo e con più funzioni. Nuove amicizie sui social network. Attenti a individui con pochi scrupoli. Valutate bene se è il caso di fare qualche passo decisivo per la vostra carriera o per cercare un nuovo lavoro. I tempi sono difficili e potreste sbagliare prospettiva. Meglio restare sul sicuro. Bene le amicizie anche se alcuni amici vi daranno qualche preoccupazione. Curate di più la vostra persona e cercate dei buoni motivi per restare sempre in compagnia. La strada in questi giorni a partire da oggi potrebbe essere tutta in salita, la vostra fatica sarà ripagata ben presto. Ma non aggrappatevi alle vostre convinzioni, lavorate per uscire presto da certe situazioni che rendono impervia la strada. Elimina ciò che non ti serve più, ma non abbandonare o trascurare gli animali. Buone idee per risolvere un problema. Se sei uno studente ottimi risultai con il minimo sforzo. Rirotni in vista è possibile. Purtroppo non torneranno solo le persone ma anche le pene, soprattutto in amore. Sarete in apprezzione per un caro amico. Chi ha un'attività in proprio può vivere una giornata in calo, che comunque non rappresenta una tendenza preoccupante. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema. Al quale dovete immediatamente rimediare. In questa giornata non sarà sufficiente la vostra eleganza e il vostro fascino per aver più potere sulle persone. Oggi avrete voglia di restare soli e cercherete qualche scusa per non tornare subito a casa. Prendetevi il vostro tempo, non c'è niente di male ritagliarvi uno spazio dove stare un po' soli con i vostri pensieri. Teatro degli eventi astrologici estremamente positivo per tutti voi del Capricorno. La giornata di festa italiana del 2 giugno vi trova in perfetta forma psicofisica, l'ideale per combinare i vostri classici incontri conviviali in armonia con l'ambiente. Molti di voi ritrovano oggi parenti lontani o amici di famiglia, persone che non vedevano da tempo. Urano, pianeta e delle novità, nel Toro, segno dell'accoglienza, dilata il vostro forte spirito inclusivo, la vostra capacità di relazionarvi con le persone care, i parenti vicini e più distanti. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox cercate di risolvere qualche problema di lunga data che vi sta affliggendo. Potrebbe nascere una storia con qualcuno di inaspettato, e magari che non piace molto ai vostri amici. Ma d'altronde l'amore è cieco. Sul lavoro presto potrete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare il vostro valore. Ora, cari Capricorno, dovete risolvere i problemi nella vostra vita. In amore potrebbero nascere storie con qualcuno di inaspettato e sul lavoro, per ora, bisogna stringere i denti. Sarebbe il caso di prendere delle decisioni un pochino più consone al vostro operato, perché se cambierete completamente rotta, andrà a finire che non sarete più credibili. Non vi dovete adeguare, soltanto perché ve lo chiede qualcuno, basterà essere se stessi per essere apprezzati anzi, è proprio così che deve essere. Non avete bisogno di prendere nessun'altra decisione che non sia la vostra. Giovedì piacevole anche per chi è di turno e non arresta mai il ritmo professionale. Meno male, ora che siete ripartiti fermarsi un'altra volta sarebbe una tragedia. Non succederà, promette la luna tenera e premurosa in se stile. In più da oggi ad addolcire Marte Battagliero all'opposizione entra in scena la bella Venere, che gli chiude la bocca con un bacio e gli toglie gentilmente la spada di mano. Basta rivalità e competizione, d'ora in poi solo sesso e amore. Amore ed Eros, partner battagliero ma contro il vostro carattere all'occorrenza duro come roccia c'è poco da strillare. Finireste per diventare nemici acerrimi mandando in crisi non solo la pace familiare ma anche la serenità dei vostri pupi. Se a parole proprio non vi riesce di comunicare fatelo con i fatti, una frase poetica, un regalino, oppure scegliete qualcuno di famiglia o un amico come intermediario. Comunicare per interposta persona non è il massimo ma meglio che niente. Una telefonata o un messaggio alla base di un'attenzione piuttosto accesa. Attenzione soprattutto alle coppie più giovani, che potrebbero mettere in discussione i propri sentimenti per qualcosa di effimero. Giove Pesci, sempre positivo, vi apre a esperienze emotive soddisfacenti, sia che siate in coppia o che il vostro cuore sia in attesa di essere colmato da un nuovo amore. Vi aprite alla comprensione della persona che avete accanto, riuscendo a mettere in atto una profonda sensibilità nel percepire quel che si muove nel suo animo e toccando lati prima da voi non esplorati. Lavoro e denaro, giornata da dedicare allo studio, alla lettura o al bricolage, qualcosa di carino per la vostra casa non sarebbe una cattiva idea, terrà buoni i pupi e contribuirà a distrarvi un po' dalle vostre malinconie. Cercate di affrontare la giornata lavorativa con maggiore serenità se non volete impazzire. Stringete rapporti cordiali con i colleghi e il tempo passerà più velocemente. Se siete agli sgoccioli con esami, ultime interrogazioni, preparazioni di tesi finali, potete contare su un benefico giove, in pesci, a conferirvi la capacità di organizzazione mentale, concentrazione, messa in ordine dei dati. In particolare il successo vi arride se studiate materie tecnico-scientifiche e geometrico-matematiche. Beneessere, stati infiammatori non più solo silenti, da oggi si fanno conclamati, ma tutto sommato ora che capite da dove proviene il malessere, è più facile anche arginarlo. Subito una chiamata all'amico erborista e in 4 e 4 otto avrete in mano il rimedio giusto. Riprendere un po' di sana attività fisica, dopo un periodo di stop, per certi versi anche forzato, per voi è sempre una gran fatica. Più mentale, che fisica, per la verità. Ma è ora di mettersi in moto. Per lei, voglia di un pupo e con l'orologio biologico che avanza avete ragione voi, ma se lui da quest'orecchio non ci sente sono due lozioni, o fate la mamma singolo o cambiate fidanzato eccellermente. Per lui, scarpinata con gli amici ma oggi non siete in vena di impegnarvi e probabilmente non vi divertite nemmeno molto, il vostro pensiero è tutto per la dolce fanciulla che vi ha rubato il cuore. Chissà se anche lei vi sta pensando. Forse sì, ma non è il caso di incespicare. Colore delle emozioni, rosa conchiglia barometro dell'umore, sereno pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Grazie per aver guardato i miei video.